Buongiorno Lidia, quest'oggi impariamo a fare il Nukides. Mi chiamo Lidia e mi chiamo Natania, e io voglio parlare con voi come è il Nukides. E questo è un Nukides originale per Lidia. Andiamo a fare l'impasto del Nukides, useremo la semola o semolino, questo è un semolino medio, intermedio, non troppo fino, del sale e delle uova. Lidia usa a mettere al posto del sale un po' di polvere, di dado o di pollo per dare più sapore alla Nukides. Inoltre un pochino di olio. Ma che c'è Lidia? Buon attacco! E questo è un pochino di olio, un pochino di olio, un pochino di olio, un pochino di olio, un pochino di acqua. Per ogni uovo. Usiamo la macchina per macchinare tutto. Potremmo mettere una puntina di sale e mettiamo un pochino di dado che da sapore, una puntina. ma Lidia ci mette anche un picco, una puntina di sale che sarebbe appena una punta. Ok? Per un uovo a meno di un quarto al minuto, un cucchiaino di sale. Poi mettiamo la semola. Mettiamo 300 grammi intanto di semola. Lidia ci dice che anche quando fa il basino usa questa macchina. Qu'è qui non è? Qu'è qui? Qu'è che lo spezia in quanto fa? Qu'è un pochino? Qu'è un pochino? Qu'è un pochino? Qu'è un pochino? Qu'è chi si può affrontare come? Qu'è un pochino di olio? È un pochino di olio? che ci sono questo è l'impasto vediamo ci sono quelli che facciamo con cibo sì, anche con cibo non ho capito non ho fatto ci sono quelli che facciamo e così e questo ho preparato prima la preparazione delle strisce prendere il gelato il gelato il gelato il gelato una retina si può fare un'altra sull'altra superficie e a mano si fa questo processo è come come un gnocchi esatto il gnocchi si può fare una strisce lunga poi a mano a mano se ne prende un pezzo si rulla addosso al gelato in questa maniera facendo delle strisce se ne prende una punta e si fanno delle palline di circa un centimetro e mezzo di lunghezza quindi vengono leggermente ariose al centro e esternamente con questi disegni quadrati fatta una bella quantità come questa si possono lasciare asciugare nel mentre si fa il sugo dove verranno cotti c'è la possibilità anche di congelare si chiudono un sacchetto di nylon e si congelano e si usano quando fa comodo ci muoniamo di una pentola abbastanza grande e gli ingredienti per fare il sugo dove metteremo il luchino sono olio, paprika dolce, pomodori pelati pomodoro concentrato sale pollo e attenzione abbiamo già cotto del osso buco o della zampa che ci dà un sapore intenso al sugo e specialità di Lidia la zucca gialla grattugiata in questa maniera e andiamo a fare il nostro sugo per il luchidis abbiamo messo un vino di olio nel fondo della pentola mettiamo un cucchiaio di paprika dolce e mettiamo l'acqua e mettiamo l'acqua ora mettiamo 400 gr 400 gr dai adesso mettiamo un cucchiaio di pomodoro concentrato e adesso 200 grammi di zucca grattugiata a fine cottura la zucca non si vederà più perché scompare si fa cucinare prima il pomodoro poi si aggiunge il pomodoro concentrato la zucca 200 grammi e poi si fa cucinare un pochino prima di aggiungere gli altri ingredienti fatto al sugo cucinarsi almeno una decina di minuti e adesso aggiungiamo gli altri ingredienti che sono il pollo abbiamo messo qui anche della zampa che abbiamo precucinato per tre ore di pomodoro sicuramente dell'acqua aggiungiamo un pollo e è regalo non è riletto 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 o riletto o riletto o della zampa o comunque della carne come il muscolo o qualcosa del genere che vanno naturalmente percotti molto tempo però si può fare anche il luchides solo con il pollo molendo da Lidia sicuramente abbiamo imparato l'inserimento in questo sugo della zucca grattugiata di fondo il luchides è una pasta usata dai tripolini che quindi ogni sugo è idoneo questo abbiamo messo mezzo cucchiaino o un cucchiaino quasi di sale aggiungiamo dell'acqua il luchides va cotto in una sorta di zuppa ora quella di Lidia contiene la zampa si può fare anche solo con il pollo o addirittura solo con il sugo rosso semplice per chi vuole una cosa leggera senza carne Lidia, che vuoi? mi vuoi? mi vuoi? mi vuoi? mi vuoi? non serve altro sale perfetto e a questo punto ecco il nostro sugo con tutti gli ingredienti dentro bolle a questo punto se serve durante la cottura che vediamo che si asciuga troppo poi aggiungiamo un po' d'acqua che ora si lascia così in cottura ecco è passata un'ora il nostro piatto è pronto il nostro luchides è pronto andiamo ad assaggiarlo facciamo un piccolo assaggio ok? ok? si 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 buona con la carne con la carne o col pollo sempre squisito e poi non 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 non